Maturata l'esperienza di un anno di pandemia, oggi gli ospedali sono luoghi sicuri e ci si può recare senza paura per svolgere gli esami. Sono stati creati percorsi protetti covid free, negli ambulatori viene garantito lo standard di sanificazione ambientale, il personale sanitario è vaccinato e la programmazione degli esami è stata rimodulata per evitare assembramenti. È fondamentale che anche il visitatore rispetti alcune regole per prevenire la diffusione del virus. L'accesso all'ospedale prevede il corretto utilizzo di una mascherina idonea, igienizzazione delle mani e rispetto del distanziamento sociale. Vi verrà misurata la temperatura corporea e richiesto di compilare un questionario su eventuali sintomi o contatti stretti correlati al covid. Si raccomanda il rispetto della puntualità negli appuntamenti. La persona è tenuta a presentarsi in orario, né troppo in anticipo né in ritardo. L'accesso all'ospedale è consentito solamente alla persona che riceve la prestazione. La presenza di un accompagnatore è autorizzata solo per i minorenni o per persone non autosufficienti.